Buon pomeriggio a tutti quanti, siamo collegati sempre dal micro Megamondo da Esapolis per un'altra bellissima puntata live insieme a delle persone straordinarie che ci racconteranno storie di natura e anche di ambiente. Intanto saluto subito Marco Poloni che è qui con me, eccolo qua, l'ho collegato ovviamente, Riccardo Poloni diciamo, hai fatto un collage dei due nomi. Esatto, ho fatto un collage per un motivo molto semplice, lo presentiamo già perché oggi, dopo l'ho risolto un attimo, facciamo una piccola parentesi con noi, è tornato Marco Colombo, ciao Marco, Riccardo Colombo. Esatto, facciamo l'ibrido completo, quindi Riccardo Colombo e Marco Poloni. Marco possiamo dire a chi ci ascolta come vanno le cose di da te? Eh, vanno bene, insomma, per quanto possano andare bene durante una pandemia. Benissimo, io parto subito, vi lascio anche collegati perché così parto subito ricordando che l'ultima volta che ci siamo salutati ho fatto vedere questo particolare insetto, abbiamo cominciato questa piccola rubrica che è, indovina un insetto, era il motivo per cui l'ho fatto, quella che dovevamo anche dare uno stimolo per chi ci guarda e soprattutto dare delle immagini o qualcosa che poi avesse anche un contenuto, ci piace sempre che ci sia un contenuto scientifico. Quindi adesso sono pronto a svelare il mistero perché non ho visto, intanto salutiamo anche Enrico che è entrato velocissimo, eccolo qua. Ciao Enrico e ciao anche a tutti i quali che si stanno collegando in questo momento. Allora, ricondivido adesso la soluzione perché io non l'ho vista, effettivamente se qualcuno è indovinato magari me lo dica adesso, non lo dica dopo quando l'ho detto, perché se no non vale e questa è la parte del divertimento. Allora, vediamo un po' se riesco a collegare subito l'immagine, così lo scopriamo qual è questo animale misterioso. Allora, come vedete dietro di me c'era un paesaggio preistorico e qui abbiamo di fronte un essere enigmatico, infatti questa qui, vedete anche il disegno che riprende quello che vi ho fatto vedere, è un insetto scoperto dal professor Alexander Rasnizzi dell'Accademia delle Scienze di Mosca, uno dei più grandi paleontomologi, però è un insetto che viene dal giurassico silberiano, ci sono zone fossilifere incredibili, soprattutto anche verso la Mongolia, verso la Cina, per i ritrovamenti. Ed è un insetto che ha fatto pensare subito a una cosa particolare e ve lo dico perché poi questa visione è un po' è cambiata ma ha dato origine anche degli equivoci. Allora, questa qui è la strascida incredibilis, strassini in russo vuol dire far paura, insomma mettere paura, effettivamente quando trovi un fossile così fai un salto, dice che animale è, guardatele. E queste due pinze che sono grosse, zampe ingrossate con delle pinze finali in qualche modo che si formano con i tarsi eccetera, hanno fatto capire a chi l'ha scoperto che probabilmente si trattava di una parassita di sauri volanti, come i perosauri, i perodonti, i perodati, adesso quelli che c'erano in quel periodo. Questa storia è andata avanti parecchio fino a che poi, perché non si vedevano ali, non si vedeva niente, fino a che poi si è visto che non era così. E non era così perché si sono trovati esemplari alati, si è capito che in verità erano poveri diteri nematozzeri, quindi delle moschine insignificanti che avevano una vita come effimere. Tutte queste strutture che vediamo probabilmente erano branchie, addirittura l'adulto riusciva ancora a respirare in qualche modo, che è stralegato all'acqua, e questi zamponi erano solo dei maschi, sono trovati nelle femmine che li usano per le femmine, per l'accoppiamento. Ecco, finito il terrore quindi dell'animale parassita, però guardate che cosa ho scoperto, io volevo fermarmi qui con la storia. Sapete che quando si va, voi lo sapete bene Marco e Riccardo, quando si va in letteratura poi se ne scoprono tutti i colori, chi comincia a far subito deduzioni, ecco questa è la cosa più bella che ho trovato, c'è questo lavoro, adesso non voglio togliere gli autori, ma sono bravissimi, hanno ripreso l'idea di questo enigmatico parassita che poi in verità si è scoperto o non esserlo, però loro insistevano sul fatto e hanno detto che siccome un parassita che assomiglia ai parassiti di mammiferi sociali, probabilmente primati, allora questo qui ha tirato due conclusioni, uno che erano endotermici, quindi avevano calore praticamente, questi insauri volanti, e due che erano probabilmente sociali. Hanno tirato tutte le conclusioni come le volete vedere, anche se leggete poi, vi lascia poi il divertimento. Poi naturalmente lo so, la loro faccia è quando hanno scoperto che erano dei moscerini, poveretti, che stavano in acqua, tutte le loro deduzioni sono date a farsi prigere. Ecco, questa qui è la storia. Poi, non so voi se volete fare un commento su questo, ma capita spesso, insomma, cambiano le carte in tavola, sui fossili poi. A me veniva in mente, Enzo, che effettivamente, a parte la storia, insomma, che ovviamente le deduzioni, le interpretazioni cambiano sempre, ma mi veniva in mente che ci sono dei coleotteri, per esempio degli edemeridi, che hanno i femori ingrossati ed è stato dimostrato che appunto possono avere un ruolo anche nell'accoppiamento, oltre che nel volo, e quindi in realtà è una cosa che potrebbe essere presente in altri insetti, anche ai nostri giorni. Sì, infatti io quando l'ho visto non conoscevo la storia di questo fossile, anche se sono appassionato anche di fossili, eccetera, e quando ho visto gli arti posteriori così ho pensato che fosse qualcosa di carattere sessuale, pensavo proprio dei meranobilis, eccetera, quindi i coleotteri, però poi tu hai raccontato e hai confermato, insomma, che c'era un'analogia in quello. Allora, adesso però continuiamo con questa piccola sfida, perché l'abbiamo messa, la cerchiamo di mettere ogni settimana e vi faccio vedere l'insetto misterioso del giorno, adesso lasciamo a chi, qui ovviamente chi è addentro ai lavori è già più facile, cercate di non fare solo cose difficili, perché questa è una bella storia, è una storia molto simpatica, per chi non la saprà, non lo scoprirà, e sarà bello raccontare, dire due parole su queste, lo facciamo vedere anche dopo, più tardi, intanto lo oscuro, ecco qua, bene, allora Riccardo, stiamo insieme oggi, che bello, perché commentare è anche un altro naturalista, e si parte con Marco, è venuto oggi a parlarci di un argomento meraviglioso, l'abbiamo già affrontato in passato anche con grandi specialisti, ci parla dei cefalopodi, del mimetismo, dell'intelligenza, che sembrano poi due cose che non hanno, sono molti animali mimetici che non sono proprio molto svegli, ecco, diciamo, sono cose che non sembrano legarsi, ma in questo caso, nel caso dei cefalopodi invece sì, mi è sembrato che sia molto collegato. Lascio a te la parola Marco. Grazie, allora, abilitami per favore la condivisione dello schermo, perché quello di cui volevo parlare oggi è proprio il legame tra i cefalopodi, il mimetismo e l'intelligenza. I cefalopodi sono molto famosi adesso, perché pensiamo al Polpopol che faceva, tra virgolette, le previsioni delle partite di calcio, oppure il documentario di Netflix di cui parlavamo prima con Riccardo dietro le quinte, eccetera. Insomma, Polpi, De Sepi e Calamari stanno diventando sempre più famosi e conosciuti dal grande pubblico. Però c'è una cosa che magari non tutti sanno, cioè che i cefalopodi più antichi erano tutti dotati di conchiglia, in particolare sembravano un po' delle patelle quasi. Questa è Tannuelle, il reperto fossile più antico finora trovato, circa 520 milioni di anni, più o meno, e la conchiglia, sappiamo che ha normalmente una funzione difensiva. Quindi i molluschi che oggi vediamo, come le cipree, gli strombi, questi animali marini, cozze, vongole, eccetera, che hanno la conchiglia, ecco, tutti questi hanno una conchiglia per ripararsi da eventuali predatori. Poi bisogna ricordare quando si è cefalopodi, probabilmente adesso ho una memoria un po' rugginita, per i miei studi di paleontologia ancora all'università, mi ricordo di branchiati, tetrabranchiati, ma comunque soprattutto tutto il gruppo delle ammoniti, ammonitoidi, di chiamiamoli così, eccetera, quindi erano ben munite di conchiglie e che poi se ne sono spariti tutti. Esatto. In altri, in altri, in altri, in altri. Sono, le ammoniti sono sparite perché erano diffusissime, in realtà su tutto il pianeta per un periodo di tempo abbastanza ristretto, infatti sono ritenute fossili guida, cioè quando tu trovi una specie di ammonite sai che quella roccia ha quell'età lì più o meno perché è vissuta per un periodo abbastanza breve, quella ammonite, in termini sempre geologici. Quindi hanno una grande diffusione e durate per un periodo, sono modificate rapidamente per cui puoi trovare in più territori, diciamo, questa storia della guida, che abbiano queste due caratteristiche, ecco. Esattamente, ampia diffusione e periodo di esistenza, diciamo, abbastanza ristretto in termini di milioni di anni. E poi si sono estinte perché sembra che fossero già localizzate, molto localizzate, prima della grande estinzione che le ha fatte sparire, mentre i nautili erano ancora diffusissimi e sono calati drasticamente, rimanendo pochissime specie come noi oggi vediamo nell'Indo-Pacifico. Ci sono 4-5 specie, più o meno, che vivono in profondità, eccetera. Però in generale i cefalopoli di oggi non hanno la conchiglia esterna, cioè i polpi non hanno la conchiglia. Le seppie hanno il famoso osso di seppia, che è quello che viene usato per i canarini, che è il residuo della loro conchiglia, ma è solo un supporto interno. E i calamari ancora meno hanno il gladio, che è un po' tipo l'osso di seppia, ma è sottile, trasparente e non è assolutamente protettivo, tant'è che dentici, paraghi, eccetera, quando predano i calamari li spaccano a metà tranquillamente, quindi non ha assolutamente valore protettivo. Quindi perché loro sono così trasformisti? Beh, perché quelli che nella selezione naturale non sono stati in grado di nascondersi meglio dei predatori, sono stati mangiati e si sono estinti. La mancanza della conchiglia, la perdita della conchiglia ha portato a un'esposizione maggiore ai predatori, quindi hanno dovuto trovare evolutivamente altre vie di difesa. Uno di queste proprio è il mimetismo o la capacità di cambiare forma del corpo, quindi infilarsi nelle spaccature, nelle crepe e così via. Ma possono anche cambiare colore, lo sappiamo. E come fanno a cambiare colore? Beh, nella loro pelle ci sono delle strutture che sono i cromatofori, i leucofori e gli iridofori, sembrano un po' dei sacchettini con dei pigmenti all'interno e sono divisi in strati, man mano che ci si allontana dalla superficie proprio della pelle e si va verso la profondità. Allora, in questo schemino potete vedere come i cromatofori siano i più superficiali, mentre gli altri due tipi di strutture sono più in profondità. Quando i cromatofori si restringono, praticamente la luce riesce a colpire molto bene anche la parte più profonda della pelle e quindi ad avere un aspetto più chiaro. Quando invece i cromatofori si espandono, quindi si allargano, bloccano la luce prima e quindi quello che noi vediamo sono delle macchie scure, rosse, gialle e così via, colorate e quindi loro con una, diciamo, manovra nervosa riescono a comandare in maniera istantanea la contrazione e il rilassamento di questi sacchettini piccoli e quindi i cromatofori allargandosi o restringendosi fanno sì che l'animale cambi colore nel complesso e quindi si possa adattare sia all'ambiente circostante, se vuole mimetizzarsi, ma anche comunicare con i suoi simili o spaventare un eventuale predatore. A volte cambiano colore proprio in presenza di un grosso pesce o di un subacqueo che li sta infastidendo, eccetera. Vedi che anch'io, anch'io in questo momento, ho cambiato il sfondo e mi sono messo con l'argomento del giorno. Hai ristretto i cromatofori e si vedono i calamari dietro di te, praticamente. Una cosa che si può dire è anche che i cefalopodi in generale vengono ritenuti molto intelligenti, sappiamo che non ha senso dire questa è più intelligente di quello, quello è stupido, eccetera. Bisogna parlare sempre contestualizzando, però dal punto di vista cognitivo sono abbastanza sorprendenti perché sono comunque invertebrati, però hanno delle capacità cognitive paragonabili a quelle di molti vertebrati, magari non i vertebrati più grandi, eccetera, però comunque se la cavano bene e dal punto di vista cognitivo le specie più interessanti spesso sono quelle sociali che hanno delle cure parentali molto estese nel tempo, quindi che crescono i loro piccoli per lunghi periodi con insegnamento di tecniche culturali, eccetera, e quindi parliamo sostanzialmente dei primati e dei cetacei che sono i due gruppi che vengono ritenuti cognitivamente più interessanti o comunque, tra virgolette, più affine a noi. Prendete sempre queste virgolette perché non c'è, ripeto, un giudizio in questo discorso, cioè non è che uno è stupido e allora il coleottero non va bene mentre il polpo è figo perché è più intelligente. No, sono due adattamenti diversi. Questo lo dobbiamo cercare. Però non voglio ovviamente interrompere né smentire nulla di quello che hai detto. Un altro paragone interessante potrebbe essere come l'occhio di vertebrati che arriva a essere molto complesso, l'occhio di questi cefalopodi che sfruttando le stesse problematiche, vuol dire la luce, la fisica, eccetera, però costruisce un occhio veramente simile ma un po' diverso comunque. Non è quello che deve compensare altre problematiche, la pressione, se guardiamo il nautius, hanno delle situazioni molto particolari, ma di fatto c'è una convergenza forse anche l'intelligenza, lo stiamo vedendo anche noi negli studi, ha delle convergenze che sono una costruzione un po' dell'ambiente in cui vivi. Sì, assolutamente. Hanno anche, a proposito dell'occhio, spesso le seppie soprattutto hanno una pupilla a forma di W e sembra che l'angolazione della luce che entra in questa pupilla di questa forma così strana crei un'aberrazione cromatica che loro riescono a interpretare come una variazione di colore. Quindi in base all'angolazione della luce loro valutano questa aberrazione data dall'entrata dei raggi luminosi all'interno della pupilla W e riescono a capire il colore sostanzialmente dell'oggetto che hanno davanti. Tra l'altro loro possono cambiare colore anche senza vedere il substrato su cui stanno, perché loro non diventano del colore delle cose che vedono, ma delle cose su cui stanno. E questo è legato a un pigmento che è l'opsina che sta proprio nella pelle dei cefaropodi e che agisce in maniera indipendente valutando il modo, praticamente la rifrazione, la riflessione della luce sulla pelle e quindi di conseguenza cambiando nel colore agendo sui cromatofori. Ma certo, ricordiamo che le ossine sono anche nei nostri occhi, con le ossine chiaramente, con altre cose che sono quelle che nei coni praticamente sono in grado di, che si modificano ovviamente in vario modo per percepire varie lunghezze d'onda, sono la base della percezione di colori anche nei nostri occhi. Assolutamente, e perché, lo dicevamo prima io e te Enzo, che fuori onde stiamo chiacchierando e dicevamo che nei cefaropoli c'è un forte demandare alla periferia, quindi spesso le braccia agiscono in maniera indipendente e non devono fare capo al sistema nervoso più centralizzato all'interno del capo, eccetera, ma il braccio va in giro da solo nel foro a cercare il gamberetto senza che ci debba essere un impulso che parte dalla zona centrale, quindi anche per quanto riguarda il cambiamento di colore c'è questa cosa interessante dell'opsina nella pelle che permette di cambiare colore senza che il cervello, tra virgolette, debba dire quella zona deve diventare bianca, in realtà quella zona diventa bianca in automatico per effetto della luce che viene riflessa dal substrato. Questo spiega anche la velocità, possiamo poi anche senza stigmatizzare troppo, diciamo come professori, la cosa non ha nessun, non è quasi grave, ma c'è la confusione tra braccio e tentacolo, no? Sì, esatto, c'è confusione tra braccio e tentacolo, in realtà i cefalopoli spesso li hanno entrambi, però quelli che... Polpo e polpo, c'è confusione. Allora, facciamo così, prima diciamo polpo e polipo, allora il polpo è quello che abbiamo visto prima, quindi è il cefalopode, mentre il polipo è lo stadio larvale, diciamo, delle meduse e dei coralli, quindi è tutt'altra cosa, perché sono i celenterati, quindi non sono molluschi, non c'entrano niente, però spesso purtroppo vengono confusi. Invece, per quanto riguarda braccia e tentacoli, le braccia sono coperte di ventose, quindi nel polpo ci sono otto braccia, quelle che noi conosciamo, non sono tentacoli, mentre nei calamari e nelle seppie ci sono anche due tentacoli, oltre a quelle otto braccia lì, che si distinguono perché le ventose sono solo in cima, quindi tutto il resto dell'appendice praticamente è nudo e le ventose sono solo in cima e queste hanno normalmente una funzione predatoria, sono quelle due che vengono sparate velocissime per prendere il gamberetto, per prendere la preda e che i polpi invece non hanno, quindi quelli sono i tentacoli, mentre le braccia sono quelle che noi conosciamo, ricoperte sinceramente. Quindi hanno funzionamento nella riproduzione queste due strutture, questi due tentacoli? Allora, le braccia normalmente hanno funzione nei polpi, c'è un braccio che si chiama ectocotile, che serve all'accoppiamento e invece nelle seppie e nei calamari, sì, i tentacoli possono servire nel maschio a trasferire i pacchetti spermatici, eccetera, però nei polpi c'è proprio un braccio specializzato che si chiama ectocotile, nei polpi, negli argonauti, nei polpi dal velo, ce ne sono vari, insomma, polpo è un termine molto generico perché sono tante specie. Comunque, tornando all'intelligenza, i cefalopodi invece non sembrano avere le carte in regola per essere molto intelligenti, perché vivono da soli, non sono sociali, crescono molto velocemente, muoiono dopo poco, nel senso che comunque la longevità è attorno a un anno, un anno e mezzo, poi c'è una specie che può vivere fino a quattro anni, ma sembra un'eccezione e ce n'è una di cui si intuisce abissale che possa vivere 16 anni, però non è ancora verificato, però in realtà la maggior parte vive pochissimo e non hanno grandi cure parentali, cioè alcuni curano le uova e poi muoiono, in realtà però non è che crescono i piccoli come i cetacei, i primati, eccetera. E allora perché sono così intelligenti, tra virgolette, perché anche in questo caso la perdita della conchiglia ha fatto sì che chi doveva muoversi sul fondale e non essere mangiato ha dovuto diventare scaltro e quindi la selezione ha lavorato proprio e ha portato fuori le caratteristiche di mimetismo e di risoluzione di problemi, adattabilità, eccetera, che noi vediamo attualmente. Possiamo dire, per esempio, che in realtà un polpo ha 500 milioni di neuroni e un umano ne ha 100 miliardi, quindi non è paragonabile, però 500 milioni è abbastanza vicino a quello di un cane, quindi comunque... Non deve fare una denuncia di redditi che ti porta via almeno a 99 miliardi di neuroni. Esatto, sì, esatto. Alla fine, nel corso del tempo, li perdiamo proprio per le denunce dei redditi. E quindi i polpi o i cefalopodi in generale possono fare cose strane. Nemo ci ha fatto vedere pesci che evadevano dagli acquari, eccetera, però i polpi lo possono fare davvero, in particolare ci sono storie in Nuova Zelanda di evasioni dagli acquari che spesso sono in riva al mare e quindi il polpo che si arrampica, lo vedete in queste foto, esce praticamente dall'acquario aperto e poi trova lo scarico per il mare e scappa e ritorna libero. Oppure addirittura di polpi che escono dal proprio acquario, entrano in quello di fianco, si mangiano i granchi, a volte tornano anche nel proprio poi, quindi fanno delle cose veramente incredibili. In Mediterranea abbiamo varie specie, questa è la polpessa che è una specie bellissima, veramente pazzesca rossa con questi po' bianchi, strettamente notturna, non è la femmina del polpo, è proprio un altro animale, però in generale vengono utilizzati per gli esperimenti di laboratorio sulle capacità cognitive i polpi, i classici, quindi Octopus vulgaris. La domanda che ci scrive, appunto, se vivono da soli non ho capito tutto, altro che, sono messe più urbi di quanto non crediamo, anche la polpessa le piacerà sicuramente. Esatto, sì sì, vivono da soli e evitano troppi contatti, anche se ci sono delle zone dove ci sono grandi densità di polpi, infatti c'è un'area in Australia che è stata chiamata Octopolis, quindi la città dei polpi, dove per alcune decine o addirittura centinaia di metri quadri sul fondo è tutto conchiglie di bivalvi mangiati e ci sono tante tane di polpi tutte vicine tra di loro e loro interagiscono, eccetera, ma non si può dire che siano sociali in senso stretto. Ecco, i polpi in acquario hanno dimostrato di saper fare delle cose inaspettate, tipo la più conosciuta è quella di aprire dei barattoli con una preda dentro. Un barattolo col tappo a vite, verosimilmente, il polpo non l'ha mai visto, quindi quando tu glielo metti, lui comincia a maneggiarselo un po', appena capisce come si apre, lo apre in un attimo e dal barattolo dopo lo apre immediatamente, quindi ha una capacità di imparare veramente incredibile e sopra la media. Possono utilizzare degli utensili, quindi possono, qua ovviamente è una vignetta, però possono praticamente utilizzare dei sassi per rompere delle custodie o per spaccare delle conchiglie, quindi l'utilizzo di strumenti non è molto diffuso nel mondo animale, perché ci sono vari uccelli che usano gli stecchini per infilzare le prede, ci sono i primati, ci sono... Non puoi vedere che adesso chiameremo i polpi per vaccinare, perché sono fatto queste cose, almeno quello... Eh beh, con otto braccia diciamo che loro sarebbero comodi, farebbero comodo. Ci sono tanti esperimenti che vengono fatti con i topi, per esempio, per vedere l'apprendimento e tra l'altro voi avete fatto anche degli esperimenti con i salticidi, quindi con i ragni saltatori, eccetera, in queste scatole dove se tu fai una cosa ottieni un premio, se tu ne fai un'altra non ottieni niente. E anche i salticidi hanno dimostrato di saper fare cose impressionanti, normalmente in altre specie più grandi si usa una leva, quindi quando l'animale, come in questo ratto, schiaccia la leva, praticamente ottiene un premio, oppure se fa una serie di cose, di azioni, ottiene il premio, altrimenti no, e quindi imparano abbastanza velocemente. Si è visto anche nei polpi, cioè i polpi tirando la leva, ottenevano un pezzo di pesce e hanno imparato subito, però fa ridere come ci sia una personalità, cioè ci sono dei polpi che imparano e poi se ne fregano e non tirano più la leva. Altri che continuano a farlo perché vogliono il cibo, altri che invece spaccano la leva e non gliene frega niente, quindi c'è una risposta comportamentale molto elastica in base proprio alla caratterialità dell'individuo. Addirittura questo rapporto causa-effetto è stato osservato anche nell'eliminare i neon degli acquari, cioè loro spruzzano l'acqua sul neon per mandarlo in cortocircuito, lo fanno anche le seppie questo, perché il neon magari dà fastidio, loro non sono animali che amano molto la luce diretta, eccetera, e quindi si è visto che una volta che imparano che mandando l'acqua va in cortocircuito, lo fanno in maniera sistematica per cercare di spegnere queste luci abbaglianti che loro hanno puntate tutto il giorno quando sono dentro gli acquari. Anche le seppie, nonostante siano state studiate abbastanza, hanno dimostrato appunto di avere delle capacità cognitive anche se sono un po' meno manipolatrici degli strumenti, eccetera, rispetto al polpo perché hanno una conformazione fisica diversa. E allora qua, vedete, questa è una ricerca abbastanza recente, è uscita inizio marzo, una seppia ha passato il test del marshmallow. Il test del marshmallow è un test che si fa con i bambini di solito, tu metti un bambino in una stanza, gli metti un marshmallow, quindi una caramella sul tavolo e dici se aspetti un quarto d'ora senza mangiarlo ne mangi due. E questo serve a valutare l'autocontrollo praticamente dei bambini in maniera così divertente. Alcuni bambini lo mangiano subito, poco male, altri invece aspettano un quarto d'ora e se ne mangiano due. Negli animali la, tra virgolette, repressione degli istinti primari è molto più difficile da controllare e quindi è impressionante come le seppie abbiano imparato che se non mangiano subito la corda di gamberetto, dopo un quarto d'ora ne ottengono due e quindi aspettano a mangiare per averne due direttamente. Quindi questo fa pensare perché la repressione tra virgolette degli istinti primari o la posticipazione di questi istinti è una cosa assolutamente non banale. C'è un'altra cosa divertente che è quella delle antipatie, cioè si è visti in acquario, molte ricerche sono state fatte anche dalla stazione di Anton Dorn a Napoli nel corso degli anni, eccetera. Però c'è una cosa interessante sulle antipatie perché alcune seppie, alcuni polpi dimostrano proprio delle antipatie nei confronti di certi operatori, di certe persone che se ne prendono cura gli acquari e così via, o dimostrano delle preferenze. Per esempio un polpo, mi ricordo questo esempio bellissimo, amava molto mangiare i gamberetti e non i pezzi di calamaro. Allora passa l'inserviente, mette in ognuna delle vasche un pezzo di calamaro e il polpo non lo tocca. Quando l'inserviente ha finito di mettere da mangiare e sta tornando, il polpo lo vede arrivare, prende il pezzo di calamaro, glielo fa vedere e poi lo butta nello scarico per fargli capire che in realtà non lo voleva. Cioè è una roba pazzesca. È veramente bellissimo. E le seppie, per esempio, dimostravano delle antipatie nei confronti magari di uno degli operatori. Allora hanno fatto degli esperimenti cambiando i vestiti, cioè invertendo il vestiario di quello simpatico e quello antipatico e loro continuavano ad avere in antipatia la stessa persona. Quindi riconoscono proprio i lineamenti della persona. Gli studi fatti sui primati si vede bene anche i primati che tirano dietro le cose che... quando sono viziati poi come noi... Eh sì sì. Nei primati te lo aspetti, diciamo. Invece nella seppia che come punizione, tra virgolette, spruzzava l'acqua o spruzzava l'inchiostro, insomma, addosso all'operatore antipatico, si è visto proprio che se uno era vestito di giallo e uno di rosso e si invertivano, lei comunque dava contro quello che odiava in ogni caso. Quindi questo fa pensare che effettivamente loro abbiano anche una buona memoria, una buona capacità di identificare i volti, di identificare le situazioni, eccetera. E rende tutto molto più interessante. Proprio di settimana scorsa è la pubblicazione, bella corposa, perché sono 45 pagine di paper e chi si occupa di scienza sa che i paper sono sempre stringati al minimo. Quindi 45 vuol dire che è tanta roba. Ma diciamo che è bella polposa, Marco. Bella polposa, esatto. Esatto. Praticamente è dimostrato che i polpi sognano, cioè sembrerebbe proprio assodato con questa ultima pubblicazione, questa serie di dati, che i polpi sognino e sognando cambiano colore in base a quello che stanno sognando. Questa era una cosa che era già passata alla ribalta della cronaca perché c'era quel video famosissimo del polpo che cambiava colore mentre era inattivo, attaccato al vetro dell'acquario, però non si sapeva esattamente. Invece adesso è uscito questo studio che dimostra proprio che l'attività nervosa del polpo combacia con le attività che fa quando è sveglio e il colore quindi ci permette di capire cosa sta sognando, perché loro hanno un codice molto preciso, bianco in una certa situazione, scuro in un'altra e così via. Quindi se lui sta riposando, sta dormendo e lo vedi che diventa bianco, capisci che lui sta sognando magari che sogna di aver incontrato un predatore o di essere in un'interazione con un altro individuo e così via. Ed è una cosa veramente affascinante, ne ho parlato i giorni scorsi sulla mia pagina Facebook appunto ed è una cosa veramente incredibile, c'è tutta una discussione sotto sul mangiarli e non mangiarli. Un'altra cosa comunque è che sicuramente il cambio di pigmenti è percepito e attuato direttamente dalle braccia del polpo, ma poi alla fine comunque il sistema è integrato e ha un controllo anche cerebrale, centrale. Assolutamente sì, perché in questo caso lui non è attivo e non si sposta, quindi l'opsina che dicevamo prima, che rileva il colore del substrato e quindi fa cambiare il colore della pelle, in questo caso è soggetta sempre allo stesso colore attorno, quindi questi cambi sono proprio di origine centralizzata e sono legati a quello che sta sognando. Il braccio si mette a sognare, anche lui, uno per conto suo, fa otto sogni diversi. Eh, ti immagini, ti immagini, che figo. Loro si vede nella parte alta a destra della schermata che ho messo, ce n'è uno colorato per metà scuro e per metà chiaro, perché loro riescono anche a riposare un pezzo del corpo e non un altro, oppure anche quando sono attivi possono cambiare colore su un lato e non sull'altro, anche i camaleonti lo fanno. Per esempio ci sono dei calamari che si corteggiano tutti assieme e praticamente i maschi riescono a colorare la metà di corpo verso la femmina in abito da corteggiamento e la metà di corpo verso gli altri maschi in abito ostile, perché se loro diventassero ostili la femmina diventerebbe un po' restia e quindi in realtà loro riescono ad avere una colorazione differenziale sui due lati per mandare due messaggi diversi in contemporanea. Non riesco a immaginare se fossero tifosi di calcio cosa scriverebbero sul corpo. Esatto, anche se ce ne sono vari astrisce di cefalopoli, c'è per esempio il, come si chiama, la seppia pigiama, che poi in realtà è un tipo di calamaro. Tu hai già pensato chi era l'obiettivo quando ho detto tifosi di calcio, è quello che gira di più in rete adesso. Esatto. Quella lì è bianca a strisce nere, quindi quella lì è giuventina praticamente. E basta, per concludere volevo dire che se vi è piaciuto questo pezzetto di bocconcino di calamaro, diciamo così, c'è il mio corso online sulla biologia dei cefalopodi che è disponibile, mandano un'email a infochiocciolardice.it, poi comincio, ne tengo vari, ne farò anche uno di entomologia a base. Mi scopri un demancio, basta che faccio una domanda, se la puoi scaricare e la puoi seguire in qualsiasi momento. Esattamente. Questo è un demancio. Il lunedì, il 13 maggio, hai anche un corso di base sugli insetti. Esatto, sì, è un corso di entomologia a base, quindi vabbè, chi segue la pagina saranno già tutti scafati perché sono i vostri affezionati, sono tutti entomologi scafattissimi, però sono tutti interessati a scoprire sempre qualche dettaglio nuovo. Quello è sugli insetti, quindi c'è la parte introduttiva sui fossili, poi l'anatomia, eccetera, e si arrivano poi a tutti i gruppi principali che ci sono in Italia con un po' di specie, di identificazione, eccetera, quindi corso base di entomologia. Io ho fatto anche qualche battuta, insomma, cerchiamo di tenere anche così su qualche battuta, spero sia risultata simpatica, però quando volevo fare il titolo del tuo intervento volevo dire che piovono polpetti perché così è perfetto. Ci ho preparato effettivamente, abbiamo detto che facciamo queste lignette così un po', vediamo se questa passa, se si capisce. Ci ho preparato questa, eccola qua. Allora, quale mano odio questo gioco? C'è un pesce che si fa la domanda, ma che gioco è? Lui è il polpetto che dice quale mano e poi dice odio il gioco perché sono troppe le mani. Ah, certo, sì, sì. Siamo che ogni mano ha la sua intelligenza, per cui barano. Sì, 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 quando giocano a carte, eccetera, sì, sì. È bello, sì, è interessante. Sui cefalopodi potresti fare vignette per un decennio, perché fanno veramente di tutto, quindi sicuramente ti potresti divertire. Se no, anche Gabriella, con le sue vignette, può fare qualcuno sui cefalopodi quando vuole, perché anche lì troverebbe sicuramente pane per i suoi denti. Ne aveva fatte anche, tra l'altro, perché una volta aveva parlato dell'intelligenza dei cefalopodi. Sì, sì, mi ricordo, mi ricordo. Va bene. Allora, vediamo se riesco. Allora, ti ringrazio moltissimo. Vediamo se riesco anche a riprendere la nostra diapositiva qui per rimandare, per chi non era collegato prima, l'insetto misterioso da indovinare. L'altro, abbiamo detto, era la strascina incredibilis, che era un fossile che ha tenuto un parasitoide, un parasita, di sauri volanti, rettili volanti, anzi. E invece era una mosca e poi c'è una storia che si è creata sopra. E qui vediamo se riuscite a indovinare che cos'è questo essere particolare che così sarà la sfida per il prossimo mercoledì. Questo è più facile dell'altra volta, devo dire. Sì, 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 ho cercato di rendere la più facile perché non ho indovinato nessuno l'altra volta. Così anche la scusa è non solo indovinare, ma anche raccontare delle piccole storie naturali, che è bello, insomma, anche così. Vabbè, ma d'altronde un gufo fossile è abbastanza facile da capire. Che gufino ce ne sono molti. La cosa molto bella è che ho scoperto che nel carbonifero c'erano già blatte che avevano disegni blattoidi, diciamo, no? Queste grazie, che avevano già disegni a forma di occhio, ma grado i vertebrati come un occhio, forse lo pesce, o i primi forse i menti di anfibi. Ed è interessante come si è sviluppato subito questi disegni. E la cosa interessante è che si mantiene nei fossili, perché hanno spessori diversi, melanizzazioni, spessori eccetera, che poi è incredibile, ed è da 400 a 300, 200 milioni di anni se cose si mantengono. Bene, ringraziamo tantissimo Marco Colombo, ci avventuriamo nella nuova strada, allora vi lascio. Grazie Marco e saluti al piccolo, alla moglie, a tutti quanti. Ciao, grazie. Spero di vederci presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Riccardo, siamo noi adesso insieme. Io intanto faccio una cosa che vi ho detto, vediamo se riesco a farla al volo, perché con te introduciamo un altro argomento, quindi devo riuscire a fare un cambio di sfondo. Ah, giusto. Eccomi qua, sono con te, perché tu oggi ci parli delle falene che si trovano in primavera, e quindi sono falene anche poi, che molte di queste poi volano anche di giorno. Sì, in realtà appunto di quelle che volavano di giorno ne avevamo parlato la volta scorsa, chi ci aveva seguito si ricorderà, perché le avevo messe insieme alle farfalle, visto che volano di giorno, avevamo detto che erano falene, ma le avevamo messe insieme alle farfalle. Invece stasera parleremo proprio delle falene che volano di notte, le falene notturne proprio. Guarda, se mandi già la presentazione, iniziamo. Io qua ne ho messe quattro, così per dare un'anteprima, però ce ne sono molte altre. Prima di tutto ringrazio alcune persone che mi hanno dato delle foto, perché ovviamente io ho diverse foto di falene, ma non ho incontrato tutte le falene, diciamo, interessanti che ci possono essere, anche perché altrimenti sarebbe abbastanza noioso, adesso non ci sarebbe più niente da cercare. Invece ci sono alcune persone che mi hanno dato anche delle foto che io non avevo. Allora, la prima specie che volevo presentarvi è questa, la Endromis versicolora. Noterete che in alto a sinistra c'è un quadratino giallo e ho inserito appunto in ogni diapositiva il nome della famiglia a cui la specie appartiene, così anche per orientare, diciamo, chi ci segue. Ecco, questa è una famiglia particolare, è Endromide, ci sono pochissime specie, questa è l'Endromis versicolora, ed è una specie tipicamente proprio dell'inizio della primavera, quindi si può incontrare già dai primi di marzo, addirittura a fine febbraio, fino poi anche ad aprile inoltrato. Non è molto facile però vederla, già se è in località giusta, no? Sì, infatti non è facile, infatti dicevo, è tipica dei boschi freschi di latifoglie, soprattutto per esempio delle faggete o delle zone dove ci sono frassini misti alle acuerce, insomma, boschi freschi, io diciamo in appennino l'ho sempre trovata nelle faggete, e infatti anche questa era proprio in una faggeta. E poi ovviamente è una specie secondo me bellissima per questo disegno veramente particolare, probabilmente è la più bella che si può incontrare in primavera, almeno a mio parere. Un'altra particolare, diciamo, una falena abbastanza particolare è questa, che è lo Stauropus fagi, e voi direte, beh, insomma, non è poi tanto particolare, è marrone, è pelosa, è una falena normale, diciamo, è un'otodontide, che sono, diciamo, tutte le specie della famiglia, sono tipiche, diciamo, della primavera, ce ne sono meno durante l'estate, ma questa specie è particolare per il bruco, e tra l'altro è caro questo bruco anche a Marco Colombo perché mi dice sempre che lo vorrebbe fotografare, ma come vedete questa è una foto di Carlo Caimi e anch'io non l'ho mai fotografato perché non è così facile. Bisogna aspettare ma dopo il bruco, adesso bisogna aspettare quest'estate, si sa. Sì, bisogna aspettare quest'estate, infatti, e però anche, cioè il bruco non è proprio facile da trovare, mentre la falena si trova, diciamo, con la caccia al lume, il bruco non è facile, dà questa forma, vedete, proprio stranissima, sembra quasi un alieno di quei film di fantascienza perché ha la testa, diciamo così, che è quella a destra e quella a sinistra invece è la parte terminale del corpo del bruco che però funge, diciamo, da difesa perché spaventa, diciamo così, questa struttura che si erge sopra alla... Poi le zampe, le zampe, questo aspetto è il gruppo delle zampe proprio incredibilmente lunghe. Sì, infatti, è proprio strano lui, diciamo, come forma e anche come dimensioni devo dire che comunque è abbastanza grande, quindi quando lo si vede, insomma, secondo me, deve fare anche un po' impressione se uno non se lo aspetta. Un'altra specie simile alla Staropus phagi invece è la Peridea anceps che è molto comune e infatti si può trovare tranquillamente in primavera anche nelle zone, diciamo, un po' antropizzate e non proprio super naturali, ecco, diciamo, anche sul balcone di casa se abitati in una zona di campagna potrebbe capitare. Un altro notodontide per continuare con questa famiglia è l'apterostoma palpina. A me piace moltissimo perché ha questa forma, vedete, con questa specie di protuberanza sopra la testa che sembra una specie di di stecchino, ecco, infatti, è molto mimetica, adesso qua la vedete su un rametto probabilmente di salice o di pioppo, però posata su un tronco o posata su una corteccia è molto più mimetica. E un'altra specie di San Luca che dice che probabilmente siccome arriva un po' dopo i commenti e forse sull'Ostauropus fagi ricorda le forbiche dei predatori stanno lontani dalle forbiche di solito per vari motivi. Anche lì la forma può ritorare. Anche la forma ci sono diverse ipotesi devo dire sulla forma del brucco dell'Ostauropus però effettivamente potrebbe anche essere io sinceramente non sono al corrente di tutte le ipotesi ovviamente che vengono fatte però potrebbe essere perché come sappiamo molte formiche hanno queste sostanze urticanti o comunque hanno dei meccanismi diciamo di difesa per la colonia proprio potrebbe essere benissimo. Non è un po' troppo grosso per somigliare a una formica comunque forse quando è piccolo. Sarebbe una bella formica in effetti. Ecco poi continuando sempre con i notodonti di un'altra specie molto bella secondo me è la ceruravinula anche questa molto comune in primavera legata anche questa alle latifoglie ai pioppi salici eccetera e è molto molto bella secondo me perché ha questo colore bianco grigiastro e secondo me è proprio non lo so è proprio bella nel senso che si vede spesso anche al telo quando arriva questa cosa bianca e poi quando si posa tra l'altro non la vedi più perché è bianca sul telo bianco e anche questa ha un bruco abbastanza particolare ma lo conoscerete tutti non l'ho neanche messo infatti perché è molto conosciuto c'era la copertina di microcosmos insomma è abbastanza è abbastanza è abbastanza vedendolo per chi non l'ha visto è un bruco veramente particolare ha molte fasi in cui cambia anche abbastanza colori colore e forma sì e forma assolutamente ecco cambiando famiglia andando sui geometridi abbiamo invece alcune diciamo specie che si assomigliano e però sono interessanti questa è la biston strataria che è molto variabile qua la vedete con una livrea abbastanza standard però possono esserci delle macchie più o meno scure più o meno chiare più o meno estese e se qualcuno di voi è familiare diciamo con gli studi di evoluzione vedrà che il genere è lo stesso della famosa biston vetularia che è un esempio da manuale di come la selezione naturale riesca a cambiare l'aspetto proprio delle falene e però anche di questo diciamo non ne parliamo mi sarebbe poi lungo comunque in breve in breve le biston vetularie normalmente sono di colore grigio chiaro quando con la rivoluzione industriale le cortecce degli alberi si sono colorate di nero di fuligine a causa della 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 fuligine appunto quindi dell'inquinamento da carbone queste falene che erano bianche sulla corteccia che era diventata nera erano molto visibili per i predatori c'erano invece una piccola parte della popolazione che aveva una colorazione nera e normalmente era sfavorita perché le cortecce sono bianche quando le cortecce sono diventate nere sono diventate molto più criptiche molto ben nascoste dai predatori e quindi sono aumentate di frequenza perché ovviamente erano meno predate dagli uccelli e dagli altri predatori e poi un'altra specie sempre molto simile vedete vi rifaccio vedere questa e guardate sono abbastanza simile però è proprio un'altra 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 specie un altro genere anche la licertaria e l'ho fatta vedere perché l'altra specie molto comune di licia che c'è in Italia è la licia florentina ed è molto particolare perché questa specie ha questa diciamo così questa specie di battuffolo nero che vediamo sulla sulla destra che in realtà è la femmina e fa parte di tutto quel gruppo di falene che hanno le cosiddette femmine attere o brachittere ovvero attere che non hanno le ali le hanno perse col tempo oppure brachittere come in questo caso ovvero delle ali molto molto piccole che però non funzionano né per il volo né per altri scopi e vediamo appunto che non assomiglia minimamente al maschio che c'è sulla sinistra la femmina e questa è una diciamo l'ho beccata in Abruzzo e c'era una persona con me che non è un entomologo e mi ha detto ma cos'è quella quella specie di cimice e gli ho detto no no guarda che non è una cimice è una farfalla e mi ho detto ma come e in effetti uno non lo direbbe che è una farfalla però lo è lo è a tutti gli effetti e la femmina ovviamente cammina sul terreno e il maschio poi la raggiunge per la coppia si ce ne sono diversi ci sono altre licia che non abbiamo in Italia ci sono anche altri geometri che non sono delle licia che hanno queste femmine attere o brachittere ce ne sono diverse però io ho presentato questa anche perché è una specie che si trova molto presto quindi già marzo aprile si vede poi abbiamo una famiglia un po' strana che si chiama drepanide che ha più specie ovviamente di quella che vi mostro io ma sono specie che si vedono piuttosto in estate ed è la tiria jacobè anzi scusate il nome è sbagliato ecco me ne sono accorto adesso questa è la è la tiria batis non è la tiria jacobè che è molto bella anche se è comunissima si trova sempre da aprile marzo fino all'autunno inoltrato anche a novembre mi è capitato di trovarla ed è molto bella perché ha questi punti rosa insomma è diciamo scenografica e invece un'altra specie che non è per niente scenografica anzi è estremamente mimetica infatti io la chiamo il muschio vivente è la valeria oleagina che ha questo nome un po' strano che sembra una persona quasi ed è molto molto mimetica vedete qua è una foto dell'amico Luca Satin che ringrazio la falena è un muschio sopra un albero ricoperto da muschie licheni quindi praticamente è invisibile adesso voi la vedete perché ovviamente nella foto è molto ravvicinata però passando davanti a un albero probabilmente non la vedreste ecco poi andando verso delle famiglie diciamo un po' più colorate tra i lasiocampidi abbiamo questo che è l'aerogaster la nestrix che è una delle specie che esce prima infatti già a febbraio in centro e sud Italia questa specie si può trovare e io personalmente non l'ho mai trovata perché al nord diciamo non è proprio comunissima e invece qui abbiamo probabilmente la famiglia che conosciamo gli erebidi che conosciamo per le arti acoloratissime che poi si trovano più avanti con la stagione ed è l'iforaia testudinaria questa la vedete sulla mia mano perché purtroppo quella sera non avevo la macchina fotografica perché ero andato a far benzina e mi sono ritrovato sulla lampada del benzinaio questa falena e tra l'altro era appena arrivata quindi stava ancora volando e poi si è proprio posata sulla lampada e quindi l'ho fotografata sul cellulare col cellulare sulla mano può essere facile a parte che io non frequento tante poste magari questa è comune in certe zone ma io non l'ho mai vista questa no non è comunissima infatti quella sera lì a dire la verità stavo andando in montagna e mi ero fermato al distributore che c'è in collina dalle parti di Serra Mazzoni per chi è pratico di Modena e in effetti non è comunissima poi in realtà io l'ho trovata solo lì l'ho trovata di nuovo l'anno dopo quando sono tornato però non l'ho trovata in altri posti quindi in effetti non è proprio facile ecco poi l'ultima famiglia che vi volevo mostrare sono i Saturnidi che ovviamente sono i più spettacolari diciamo sono quelli un po' più grandi un po' più belli e colorati e questa specie è l'agliatau esce proprio presto perché si può trovare già dalla metà di aprile primi di aprile e questa mi ricordo eravamo andati sul Monte Baldo per fotografarla e ha questi colori veramente bellissimi cioè questo giallo proprio zafferano con questi ocelli blu è veramente molto bella e un'altra specie ovviamente di Saturnidi che è tipica della primavera che tu avevi messo anche nella copertina Enzo è la Saturnia Pavoniella che è è un evento da noi al nord per vederle volare un po' le nostre belle giornate di sole calde i maschi si vedono in volo infatti è detto bene perché i maschi che è quello diciamo il maschio è quello sopra quindi il color diciamo giallo-rosso invece la femmina quella più marrone è quella sotto e la femmina arriva alla lampada come le falene diciamo normali tra virgolette il maschio invece vola proprio di giorno e tra l'altro ha questo volo molto nervoso molto forte ed è difficilissimo anche vedere proprio se è lei o non è lei perché schizzano via come dei razzi ecco vi faccio vedere un po' meglio questa è la femmina e questo è il maschio salutiamo anche Eugenio che è in fotografia l'autore infatti volevo ringraziarlo perché le foto sono sue anche in questo caso io ho una foto della Saturnia pavoniella ma avevo solo la femmina quindi ho detto vabbè mettiamo insieme il maschio e la femmina e ho preso le sue e questo è il bruco lo faccio vedere perché la Saturnia pavoniella è anche una di quelle specie che sono facili da allevare anche per i principianti per chi non è diciamo esperto di allevamento e visto che si trovano i bruchi sul rovo o anche su altre rosace in primavera abbastanza diciamo facilmente è qualcosa che si può fare ecco di allevarla e tra l'altro è una specie che quando arriva al telo è proprio bello perché nelle serate di inizio primavera come possono essere appunto queste di fine marzo o dei primi di aprile le falene che arrivano alla lampada adesso io ve ne ho fatte vedere tante ma quando si fa una serata e si accende la lampada sono poche le specie che arrivano e anche il numero di individui che arrivano e quindi quando uno vede come in questo caso la Saturnia pavoniella arrivare è proprio una cosa insomma un evento ecco diciamo non so se vedete il video si si vede bene ecco poi per concludere per concludere volevo presentarvi una specie che è molto particolare secondo me ed è proprio tipica italiana ed è un simbolo potremmo dire dell'Italia ovvero Enzo tu la conosci è la bramea europea intanto vogliamo dire facciamo anche onore a Enrico Stella che ha dedicato un libro a questa è stata fra i primi anche a descrivere infatti io volevo proprio dire che quando ho letto il libro di Enrico Stella L'elogio dell'insetto io non conoscevo la storia che c'era dietro la scoperta della bramea europea e quando l'ho letta poi ho anche approfondito nelle pubblicazioni proprio di Artig ed è veramente incredibile ecco non dico niente perché la bramea europea sarà oggetto di una delle prossime dirette e racconteremo proprio come è stata scoperta e oggi diciamo solo che è una specie tipica del sud Italia in modo particolare della zona del Vulture che è in Basilicata c'è solo lì esce molto presto marzo-aprile ed è ovviamente anche protetta protetta perché ovviamente la distribuzione è molto puntiforme e essendo una specie molto vistosa e particolare perché i parenti più prossimi sono poi tipici delle zone dell'Ase quindi molto lontano è anche molto ricercata diciamo dai collezionisti quindi per questo è stata protetta ecco poi chiuso questo capito volevo dirti solo che Enrico Stella non ha scritto solo dell'Oggio dell'Insetto o del Quarto Papiglio e altri libri ma ha scritto anche un libro specifico sulla canto bramea che ho qui nella mia libreria non so se tu ce l'hai no io quello non ce l'ho però c'è un bel capitolo bello lungo sulla bramea anche nell'Oggio dell'Insetto ecco poi abbiamo visto quindi un po' una carrellata delle specie che si possono trovare in primavera adesso volevo farvi vedere però come si fa a trovarle queste specie perché io parlo sempre di ricerca al lume la lampada e quant'altro però io quando lo dico alle persone diciamo che non sono entomologi mi guardano tutti con tanto d'occhi e mi dicono ma come davvero sei andato a farti una lampada e gli ho detto no guarda non la lampada abbronzante la lampada questa praticamente però però questa emette ultravioletti potrebbe farti anche qualche danno oltre che abbronzarti sì esatto tra l'altro appunto vedremo che gli ultravioletti hanno un ruolo in questo ecco però volevo farvi vedere un po' come si fa un'attrezzatura come si costruisce un'attrezzatura per fare la ricerca al lume perché in tanti mi mandano dei messaggi me lo chiedono anche sul gruppo diciamo degli amici delle farfalle che se non conoscetevi consiglio di guardare dove ci sono delle persone che conoscono le falene molto meglio di come le conosco io che non sono uno specialista diciamo della tassonomia delle falene ecco visto che è una domanda che capita spesso volevo dare proprio due dritte veloci su come si può fare un'attrezzatura semplice per fare la caccia al lume la ricerca al lume ecco allora ci sono due soluzioni la prima è usare i led che voi sapete sono delle piccole luci a basso consumo e usando due strisce di led una a led UV e l'altra a led bianchi si può costruire diciamo una specie di tondo oppure anche a forma proprio di palla che emana appunto luce ecco perché ultravioletti allora gli ultravioletti perché la maggior parte delle falene sono attratti dalle luci sono attratte dalle luci perché nelle luci c'è una componente ultravioletta ed è proprio quella che attrae le falene poi ci sono alcune specie che sono attratte anche dalle appunto dalle luci bianche e anzi se non c'è la luce bianca non arrivano però la maggior parte delle specie proprio sono attratte dall'ultravioletto quindi luce ultravioletta luce bianca e il tutto alimentato da una batteria da 12 volt in base ovviamente agli ampere in base a quante luci avete messo diciamo quante strisce di led ovviamente questa soluzione è facilmente trasportabile perché i led pesano poco e anche la batteria pesa poco consumano poca energia perché appunto i led abbiamo detto sono a basso consumo e ovviamente anche una soluzione che costa poco perché due strisce di led una batteria e un cavetto per collegare alla fine ha un costo abbastanza diciamo abbastanza basso i contro quali sono beh effettivamente non è molto potente quindi il potere anche attrattivo è minore in più rispetto alla lampada che vedremo dopo i led illuminano poco quindi diciamo attaggono le falene perché hanno questa luce ultravioletta che le falene vedono molto bene e quindi loro arrivano però non illumina la scena quindi non illumina diciamo dintoni quindi poi bisogna usare delle torce in modo da poterci vedere ecco però è una soluzione ottima per chi vuole diciamo portarsi in giro questa attrezzatura ecco invece ecco questa è come appare una lampada diciamo a led qui erano i Pirenei per esempio e invece l'altra soluzione è più adatta a chi vuole restare tra virgolette fermo o chi vuole una soluzione un po' più professionale potremmo dire ecco e ovviamente è la lampada ai vapori di mercurio che è il classico diciamo della caccia all'ume quella che viene raccomandata anche nei test diciamo storici di entomologia allora questo setup è un po' più complicato si usa una lampada ai vapori di mercurio che si può trovare diciamo dai rivenditori si poteva trovare anche queste stanno scomparendo purtroppo si stanno scomparendo perché alcuni possono trovare per non ordinarle alcune tipologie sono state da quello che so io alcune tipologie sono state dichiarate fuori diciamo fuori commercio e quindi non si trovano più però si continuano a trovare alcuni tipi ecco si usa la lampada la parentesi di Enrico che dice sui bruchi della nostra plumea sono importanti gli studi recenti da Natto Speciarelli così può essere grazie Enrico ringraziamo sempre certo Enrico Stella per anche per i poi insomma magari in futuro se vorrà se vorrà venire a parlarci di qualcosa anche non dentro a me insomma però magari ecco dicevamo la lampada quindi la lampada ci vuole ovviamente e poi per farla funzionare e diciamo non avendo la presa di corrente vicina ci vuole un generatore di corrente che va a benzina e ovviamente tutti i vari cavetti per connettere la lampada il porta lampade al generatore allora come pro ovviamente questo ha un forte potere attrattivo perché la lampada è molto potente illumina molto bene e quindi si vede come vedete dalla foto la scena è illuminata quindi anche senza usare troppo la lampada la torcia si può vedere quello che c'è e se arriva una farfalla è una falena scusate per contro il generatore è pesante quindi tutto il sistema è difficilmente trasportabile consuma molta energia perché va a benzina ovviamente e poi ovviamente c'è anche il costo che è più alto perché comunque il generatore e anche la lampada stessa costano molto di più di un paio di strisce di led con una batteria ecco per cui questo è più adatto diciamo a chi magari ha visto che già fa delle cacce al lume abitualmente vuole fare diciamo un upgrade ecco vuole qualcosa di un po' più potente però dobbiamo dire che c'è la variante ovvero l'effetto è questo di fare la caccia al lume con la lampada qua c'erano un sacco di moscerini per cui la foto è piena di moscerini però chi è a casa e non vuole fare la lampada in giro o anche siamo in un periodo come questo per cui dobbiamo rimanere a casa chi ha un giardino o anche un balcone che dà su un'area naturale su un'area un po' con degli alberi e un po' di macchia può comunque trovare delle falene anche nonostante il periodo diciamo che si costringe in casa io ho diversi amici tra cui Giovanna Magnoni che tra l'altro farà la lampada proprio questa sera che fanno le lampade nei giardini di casa e comunque arrivano delle specie interessanti ecco se si è a casa non serve il generatore e quindi si può attaccare la lampada direttamente alla presa di casa e quindi con una spesa minima quella della lampada e della spina e però restando a casa si può comunque fare una caccia al lume ecco questo è quanto e quindi spero di vedervi tutti a cercare falene nei prossimi mesi grazie Riccardo allora ti ho promesso che anche a te ti facevo vedere una vignetta vediamo se riusciamo anche questa qui adesso a farla vedere perché così raccontiamo qualcosa anche così sorridendo di questi animali ecco qua io ti ho preparato questa vignetta visto che parlavi di falene forse buttarsi giù e poi trasformarsi in falene durante la caduta non è una grande idea infatti e io ci ho fatto sulla morale è già è un fenomeno un po' complesso anche se devo dire che i bruchi hanno degli esoscheletri molto più robusti di quello che si pensa per cui ne ho visti tante volte cadere dagli alberi e non farsi niente beh insomma noi immaginiamo che questa sia una cosa comica per cui dai dipende anche lì hanno trovato le formiche diciamo poi che le aspettavano va bene allora io ti ringrazio molto noi ci vediamo mercoledì prossimo ci hai già anticipato forse l'argomento di mercoledì prossimo no in realtà no però però sicuramente una delle prossime dirette sarà sulla Bramea qui c'è anche un segnale da Giovanna Magnoni che dice ciao a tutti il manuale che ho trovato la lampada giusta di sera è meglio che guardare la tv è molto meglio che guardare la tv quantomeno sarà quantomeno uguale guardare di sera le lampade con le falene che arrivano o guardare le dirette live che facciamo noi ecco per capire cosa adesso viene buio viene buio alle 8 per cui quando finisce la diretta cena e poi va a fare la lampada certo ti puoi pure abbronzare va bene grazie allora Riccardo grazie ovviamente a tutti quelli che stanno continuando ad ascoltare adesso passiamo ci salutiamo passiamo all'appendice che è il suolo vivente e con noi c'è Francesco Daschio che saluto ciao Francesco buonasera Enzo buonasera a tutti grazie di questo prezioso invito ecco allora qui con noi oggi c'è anche il dottor Andrea Fasolo che ci ha accompagnato per varie dirette sempre preziosissimo nei suoi contributi molto colti molto interessanti innovativi e lo salutiamo anche lui ciao buonasera Enzo buonasera Francesco buonasera a tutti gli spettatori che ci seguono allora Andrea Fasolo che è esercatore sta facendo dottorato in ricerca al DAFNE e si occupa di cover crops principalmente ma poi anche di tutto quello che migliora l'agricoltura attuale che darà un futuro all'agricoltura perché il problema è che questo modello che abbiamo adesso di più diffuso non ha futuro ecco questa sera l'argomento con il quale tratteremo questa sera è proprio la nostra associazione suolo vivente perché ormai da diversi mesi il dottor Moretto ospita questa rubrica il mercoledì sera durante la quale si alternano relatori agronomi agricoltori giovani e meno giovani che raccontano come le tecniche agroecologiche proposte dall'associazione suolo vivente vogliono proporre un'agricoltura innovativa e allora abbiamo pensato io e il dottor Fasolo abbiamo pensato che questa sera poteva essere la serata giusta per presentare questa nostra associazione e l'amico Enzo Moretto adesso fa scorrere sullo schermo il il video le videate le pagine che si vedano su il sito nostro che è www.suolovivente.org www.suolovivente.org è un progetto che deriva da una precedente esperienza che era una sorta di gruppo operativo promosso dalla regione veneto con la misura 16.1 nel quale un'azienda agricola in special modo la mia azienda agricola Francesco da schio era capofila di un gruppo di agronomi agricoltori professionisti che volevano rinnovare il modo di fare l'agricoltura adesso questa esperienza con la 16.1 è terminata e allora un gruppo di amici ha fondato l'associazione di promozione sociale suolo vivente che ha come se tu fai scorrere un po' le parole che sono scritte in rosso al di sotto di questa fotografia che ha come obiettivo eccola qua proprio quello di far conoscere chi siamo e che vogliamo e cosa vogliamo fare in pratica di fondere una cultura agronomica ed agro ecologica ed introducendo la parola agro ecologica noi introduciamo una rivoluzione nell'agricoltura perché l'agro ecologia è qualcosa di molto complesso adesso però ho perso la linea io noi noi ti vediamo puoi continuare tu andrei intanto sì effettivamente come diceva giustamente Francesco abbiamo visto in tutte queste dirette in queste settimane durante questo inverno quale sia l'intensità di relazioni che esistono all'interno di un suolo all'interno di un campo e tanto più un suolo è vivente tanto più sono forti dense e interessanti e utili anche per l'agricoltore queste relazioni e tuttavia non è così facile la domanda con cui ci siamo lasciati provocatoriamente la settimana scorsa è che appunto queste tecniche ancora non vengono insegnate diciamo che gli agricoltori le condividono tra di loro le ci sono diverse sperimentazioni in corso in molti ambiti però appunto non è ancora un approccio agronomico che viene diciamo diffuso da un punto di vista classico canonico è ancora molto rivoluzionario e quindi l'idea di far nascere appunto dall'eredità di questa prima esperienza di questo inizio di gruppo operativo l'idea di far nascere poi l'associazione è nata proprio da qui è nata proprio dall'esigenza di mettere in relazione di unire vari agricoltori agronomi e persone che hanno avuto modo di fare esperienze in questo campo proprio per agevolare questi scambi e quindi permettere anche questo tipo di relazione non solo quello che possono esserci tra microrganismi e piante o tra piante e piante ma anche quello tra agricoltori e agricoltori o tra agricoltori e ricercatori proprio per poter diffondere e divulgare il più possibile questo approccio agronomico intanto vedo che è ritornato Francesco scusatemi la nostra associazione ha compiuto un anno è stata fondata l'anno scorso all'inizio della pandemia e ha costituito a febbraio un gruppo di soci fondatori che Enzo sicuramente riuscirà a trovare sul sito che adesso verrà a scorrere e dei quali soci fondatori io sono il presidente il dottor Moretti è vicepresidente e il dottor Fasolo è segretario poi gli altri gli altri soci fondatori sono li vedete qua su questo elenco che c'è il professor Squartini il professor Paoletti il professor Concheri il dottor Gavinelli mio figlio Berardo Daschio le sorelle Paparella e Luca Brogiato quindi abbiamo un gruppo fatto di professori universitari di agronomi di scienziati che vivono in Veneto tra Padova Vicenza e Rovigo e sono tutti accomunati da quest'idea di far conoscere un nuovo modo di far agricoltura che abbia come fondamento il rispetto della vita nel suolo Francesco posso aggiungere una cosa che secondo me per chi ci ascolta o vedrà questa diretta registrata che secondo me è molto importante non c'è solo la parte tra virgolette come se fosse solo perché quello che fa andare avanti il mondo dalla parte teorica scientifica ma c'è anche sono molte persone che applicano lo stesso Andrea Fasolo che abbiamo visto in questo momento poi lui va in campo il dottorato suo non è stare solo dietro i libri o le ricerche le pubblicazioni che è un lavoro enorme da fare ma è proprio andare in campo a mettere in pratica quello che si stiamo dicendo giusto Andrea? esattamente diciamo che tra le varie cose che mi accomunano a Francesco oltre alla passione per l'agricoltura è anche quella di avere la stessa seminatrice e quindi poi di effettivamente in campo mettere in pratica nei miei terreni tutte le tecniche tutte le idee che abbiamo visto appunto nei vari incontri e che da diversi anni ormai stiamo proponendo e presentando attraverso appunto l'attività di suolo vivente e aggiungo che è un aspetto oltre a Francesco che già applicano in modo biologico molte attività all'azienda ma soprattutto Francesco e anche oggi stanno già cominciando Francesco da tantissimi anni a produrre con queste tecniche perché chi magari sente parlare dice questi vedono avanti sicuramente il futuro ma intanto io devo campare oggi e non c'è spazio invece e non è assolutamente così bisogna assolutamente guardare avanti perché quello che stiamo facendo oggi non ha futuro proprio vuol dire distruggere insomma ripetiamolo e poi c'è chi sta interpretandolo anche su altri tipi di culture che non abbiamo fatto vedere ma che sono per esempio il giardino la filosofia del suolo vivente le nostre consigliere paparella per esempio hanno anche un'azienda vivaistica di progettazione e cercano di portare i concetti del suolo vivente o quelli dell'agricoltura la coltivazione più biologica sostenibile e dell'economia circolare Francesco correggimi se dico le stupirazioni dentro il giardino certamente e quindi abbiamo d'altra parte in questi 6-7 mesi che Micro Megamondo ci ospita gli interventi del mercoledì sera sono stati un po' di tutti i generi c'è stato il professor Squartini che ha presentato lo strumento per misurare la fertilità del suolo il professor Concheri che ha parlato della struttanza organica il professor Paoletti che ci ha presentato la biodiversità dei suoli e operativamente sono stati molto interessanti gli interventi del dottor Fasolo e di Luca Brogiato perché entrambi hanno dimostrato che è tecnicamente agronomicamente e anche economicamente sostenibile questa attività è molto importante la nostra propaganda di associazione suolo vivente e in questo momento sicuramente spendo una parola per invitare gli ascoltatori a diventare soci della nostra associazione perché la politica agricola europea o anche il famoso next generation EU danno e daranno molti fondi per trasformare l'agricoltura industriale che ci contraddistingue in un'agricoltura dove sicuramente l'industria è presente ma dove l'economia circolare verrà molto valorizzata e per fare questo trasferimento di conoscenze occorre sicuramente una nuova professionalità occorrono sicuramente nuovi strumenti e quindi sicuramente occorre un investimento e una crescita in nuovi lavori ci ricordo anche gli interventi di Gianni Tamino che sono stati riguardo l'agroecologia e il fatto che l'agricoltura è un ecosistema e poi recentemente un ospite che abbiamo avuto anche molto interessante è il redattore della rivista Lapis Luca Bosco che è stata un'idea anche di come sia l'economia circolare legata poi agli impollinatori e tutto il mondo delle api che oggi si sta guardando moltissimo anche delle volte con angolazioni e con eccessi però sicuramente un pilastro dell'impollinazione della fertilità e soprattutto qualcosa che ci fa capire anche questo in che direzione stiamo andando e il suolo vivente sicuramente propone un ambiente più biodiverso insieme a altre misure che sicuramente adotta comporta una salvaguardia della biodiversità quella che dà fertilità ai suoli soprattutto se tu Enzo riuscissi a inquadrare la striscia superiore di suolo vivente e aprire le pagine gli ascoltatori possono vedere un po' come è strutturato questo sito il quale è sicuramente un sito importante ma continuamente viene viene promosso con nuove iniziative con nuovi eventi in particolare vorrei che tu per cortesia accendessi il link dei link la pagina dei link perché sulla pagina dei link si può vedere ecco i link utili che sono appunto quelli dell'apis e forse c'è anche io vi voglio sottolineare appunto il blog di Andrea Fasolo perché qui voi venite rimandati a un'interessantissima serie di pagine e attenzioni sui quali sicuramente Andrea potrà dirvi qualcosa cosa che stiamo vedendo qui nel tuo blog Andrea allora questo qui è un articolo in realtà del 2017 della prima cover crop diciamo seria ben fatta che avevo fatto in uno dei miei pezzamenti e si vede il risultato nella prima foto quella inquadrata in grande ma la cosa interessante era che a fine inverno sia il mio appezzamento che quello del vicinante ecco si vedono in queste due foto appaiate che si vedono appunto qui in fondo e quindi due situazioni che sembrano in realtà molto similari ma se poi scorri un po' in profondità e continui a scendere nelle altre foto ci sono tutta una serie poi di di fasi di sviluppo poi di quella prima cover crop e qui invece arriviamo verso il mese di aprile appunto del 2017 con poi lo sviluppo e dovrebbero essercene anche altre poi esatto qui verso la fioritura e le prime fasi poi di gestione di questa biomassa ecco qui avevo fatto il campione della biomassa appunto per quantificare quanti fossero anche i nutrienti rimessi in gioco da questa prima copertura vegetale vuol dire che hai preso un po' hai una unità di misura praticamente hai preso un metro quadro non so un decimetro quadro qualcosa del genere di piante e le hai analizzate poi esattamente se provi a tornare in alto scusa che ti facciamo fare un po' il valletto digitale prova a tornare proprio in cima alla pagina e a cliccare su Agro Logos proprio sulla parola Agro Logos dovrebbe rimandare esatto sulla home page e qui per esempio possiamo vedere l'ultimo articolo che ho pubblicato era un campo un campo vetrina un campo dimostrativo in cui avevamo all'interno di un progetto il progetto Biofuture che stiamo portando avanti come Daphne in collaborazione appunto col professor Concheri e Squartini e alcune aziende orticole ricordiamo che Daphne è l'Università di Padova che opera come agraria ad Agrippolis agraria forestale tutto quello che è collegato ad Agrippolis legnaro esatto è uno dei due dipartimenti della scuola di agraria e medicina veterinaria l'ex facoltà di agraria e se scendi anche qui molto rapidamente giusto per farne vedere qualcuno poi non ci dilunghiamo oltre ci sono una serie di foto che fanno vedere l'evoluzione di questo campo vetrina in cui ho poi raccolto dei campioni di biomassa dei vari miscugli e utilizzando un sistema di stima è un foglio di calcolo excel molto semplice ma che permette di stimare in base alla composizione percentuale di questa biomassa quant'è il valore di azoto fosforo potassio zolfo magnesio ma quant'è anche il contributo in termini di carbonio che è stato fissato grazie a questa copertura vegetale nel suolo e quindi è un sistema superiore ho visto delle piante non raccogli l'apparato radicale o anche l'apparato radicale no raccolgo solamente la parte aerea e poi il sistema di calcolo diciamo ha un fattore di correzione in base alla specie perché abbiamo specie come il rafano per esempio che hanno un apparato radicale molto importante rispetto a un cereale a paglia che invece ha un apparato radicale che proporzionalmente contribuisce di meno e quindi possiamo appunto grazie a questo metodo di calcolo andare a stimare qual è la restituzione potenziale di queste coperture vegetali così anche l'agricoltore può farsi un'idea di qual è la fertilità del suo terreno qual è la fertilità che magari può andare a risparmiare nella cultura successiva o ancora qual è l'incremento che progressivamente anno dopo anno può può così accumulare in termini di sostanza organica ecco grazie per gli auguri che abbiamo appena ricevuto grazie grazie molto ecco perché perché tutte queste attività che che noi stiamo discutendo proponendo e anche studiando perché bene e male ognuno di noi nella sua esperienza professionale continua ad applicare queste queste tecniche di suolo vivente attraverso questa associazione di promozione sociale suolo vivente noi noi le vogliamo diffondere e in una serata come questa noi vi chiediamo proprio di se avete voglia di partecipare anche di associarvi a questa nostra associazione perché i soci in regola con la quota associativa potranno partecipare alla prossima assemblea sociale che faremo a fine mese che sarà via zoom ma sarà comunque un'assemblea sociale e quando la pandemia ci permetterà anche la convivialità faremo un'assemblea in azienda agricola qui da me dove avremo e avrete modo di vedere come sia sostenibile un'azienda agricola che applichi agroecologia ed agroforestazione posso Francesco Andrea rimane un capitolo da scrivere penso sul suolo vivente importante ce ne sono tantissimi ma appena iniziati ma uno importante che riguarda le culture d'aorto penso che ci sia molto da fare su quel campo e avere contributi anche esterni di persone che vogliono impegnarsi su questo io anche stavo riflettendo su questo aspetto sarebbe interessante ho visto per esempio ci siamo condivisi con whatsapp come fanno tutti ormai in questi periodi una volta un video di questa cinese che era che coltivava i cavoli del pavimento del cortile dalle crepe diciamo tra la pietra e l'altra faceva delle file di cose meravigliose adesso non so cosa c'era sotto lì sinceramente ma però dall'idea che è possibile in qualche modo creare una situazione anche particolare insomma emerge la cultura non emergono le altre piante oppure pur mantenendo senza mai toccare arare il suolo o zapparlo per quella con il pavimentato solo pavimentato non è che poteva scavare arare soprattutto soprattutto nei cosiddetti orti sinergici una tecnica che io conosco solo e assolutamente in teoria le colture orticole vengono messe su una lunga chiocciola di terra rialzata e coperta di paglia e vengono coltivati i pomodori melanzane patate in giusta successione in modo che le piante stesse si aiutino una con l'altra abbiamo aperto un nuovo capitolo abbiamo aperto un nuovo interessantissimo capitolo questa sera e quindi aggiungeremo una nuova pagina sugli orti colgo subito l'occasione per salutare gli amici del progetto Entroterra che lavorano proprio su queste tematiche e che probabilmente ci stanno ascoltando o ci vedranno nei prossimi giorni in replica proprio perché stanno lavorando stanno sviluppando questa tematica di coltivazione di colture orticole cercando di abbandonare il più possibile le lavorazioni del suolo ed intensificare il più possibile invece la copertura e tutta la vita che può svilupparsi all'interno di un suolo che è ben gestito e lavorano su entrambi i fattori sia la copertura del suolo con pacciamatura con paglia o con coperture vegetali come quelle che stiamo vedendo in queste foto su cui poi è stato coltivato del radicchio di treviso tra l'altro proprio per rimanere in ambito ortico mi ha ispirato quell'immagine che ho visto del radicchio è interessante questo esatto e oltre a questo però stanno introducendo anche alcune il più possibile diciamo alcune tecniche di quelle di cui accennava Francesco quindi l'interazione tra piante complementari da raccogliere per cui nelle stesse aiuola coesistono diverse colture orticole che poi verranno entrambe raccolte e proprio per sfruttare al massimo l'interazione che può esserci tra piante differenti per cui magari potremmo pensare di invitarli in una delle prossime dirette proprio per sentire anche loro la loro esperienza e vi assicuro che è davvero davvero emozionante abbiamo avuto l'opportunità di conoscerli dal vivo diciamo da vicino con il professor Squartini e vi assicuro che stanno facendo delle cose straordinarie ora se avremo anche questa opportunità farò il possibile per esserci io devo esserci se non partiamo con la diretta però mi prenoto due volte perché è veramente un argomento interessante anche quello proposto da Francesco quel metodo lì che conoscevo che sono tanti anni che si applica molte cose interessanti ma questo è un metodo più adatto alla gestione familiare o piccola mentre portarle su una situazione tutti e due sono estremamente interessanti dobbiamo arrivare a proposte anche più piccole però sicuramente se questi portano avanti un progetto anche gli articoli su vasta scala è molto interessante scusa Inzo ti potrei chiedere di ritornare vedo i minuti scorrere velocissimi ti potrei chiedere di tornare sul sito di suolo vivente cosa facendolo diamogli il tempo dal computer a internet di dare il meglio perché 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 ecco così rapidamente tu scorri scorri la riga in alto ci sono i soci fondatori ci sono le pubblicazioni ci sono gli eventi ci sono i contenuti scientifici ecco se vuoi far vedere i contenuti scientifici così rapidamente appunto abbiamo abbiamo le esperienze di brogiato abbiamo le esperienze vedete lì sulla ci sono appunto gli argomenti gli avvicinamenti culturali la biodiversità microbica e qui ognuno di voi può appunto vedere delle esperienze di semina delle esperienze di test di stabilità delle profondità dei lombrichi per arrivare in fondo poi alla pagina in alto sulla 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 striscia in alto far vedere dove sono scritti i nostri contatti vedete lì ci sono i nostri contatti che ai quali vi potete rivolgere e che appunto sono i due indirizzi mail quello istituzionale dell'associazione o quello mio oppure in due pagine c'è se tu vuoi cliccare su questo download oppure su no su iscrizione cliccare su iscrizione ecco iscrizione e poi su download tutti voi potete cliccando su download viene fuori il modello di iscrizione è una cosa che deve essere caricata in word io posso condividerla se vuoi devo rifare la condivisione un attimo allora subscreen share screen che devo fare tutto da qui e vi faccio vedere subito anche la sinistra grazie grazie e quindi ecco questa qua è una richiesta di ammissione socio che tutti coloro che hanno voglia di condividere con noi questa 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 associazione sono assolutamente benvenuti i prossimi appuntamenti dell'associazione sono abbiamo partecipato a un progetto che si chiama la carovana della solidarietà per attivazione di territori famiglie ed associazioni e in questa occasione andremo a spiegare l'importanza della conservazione dell'acqua a metà aprile parteciperemo a un seminario online di una rete europea che si chiama EIP Agri e che è una condivisione appunto delle istituzioni europee per chiedere idee su come promuovere delle iniziative in questo caso a proposito proprio della salute del suolo intesa come salute per l'Europa benissimo noi abbiamo concluso anche oggi il nostro tempo ci rivediamo quindi mercoledì prossimo possiamo andare all'ultimo appello per chi ci ascolta e anche saluto e ringraziamento ovviamente a tutti quanti grazie 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 moltissimo molti auguri di buona Pasqua a tutti coloro che ci ascoltano e grazie Enzo veramente per la tua ospitalità sempre generosa grazie dottor per il suo segretariato il suo entusiasmo in associazione suolo vivente e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato grazie anche da parte mia mi raccomando coltiviamo e tuteliamo al meglio i nostri suoli buona Pasqua e a presto ci rivediamo dopo aspettiamo gli ospiti di Entroterra fantastico fantastico benissimo sono molto ansioso di vedere tutte queste cose bellissime io vi saluto tutti e vi do appuntamento per la prossima diretta mercoledì ciao 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 a tutti ciao